E' uscita DJ Player volume 9, le 12 hit del momento in extender versione Per DJI e appassionati che crea movimento La migliore dance con le 12 song più forti del momento George Martin S, Tutu Rara, Sunny J, Sunny J e prevale Once Again Belmundo e Parker, Do You Think, Fabretto Fittan Lee, I Get The Feeling Danilo Orsini e Piero Totti versus Walter Fontana e Paolo Colasanti La Radeca, La Radeca, Rulian C, Havana, DJ Player volume 9 Selezionata rigorosamente da Sunny J e Sonny H Non ti rimane che premere il pulsante play Non ti rimane che premere il pulsante play Distribuzione Self Distribuzione Self Ma seconda, ma seconda, ma seconda한�ine che premere il pulsante Ma seconda, ma seconda noon, ma seconda tidale Per quel nome di chi non di chiara è in manging Per quel nome di chiara che specimens